E' il paradiso. Questo è il paradiso, te lo dico io. Questa città è come una bella donna che aspetta solo che qualcuno se la faccia. Sai, io dovevo vederci almeno dieci anni fa. Sarei diventato un miliardario a questo, ci puoi giurare. E così adesso avrei la mia barca, la mia macchina, il mio capo da golfo. Sai io che voglio. Ci stavo pensando l'altro giorno. Una fabbrica di blue jeans con il mio nome stampato ben in vista sul culo delle ragazzine. Che ne dici? Che mi sembra proprio una stronzata. Guarda quello, guarda, guarda, guarda. Guarda, ti perdi uno spettacolo, girati. Ci stiamo perdendo il movimento. Ehi, principessa. Vuoi prendere un gelato con il mio amico e con me? Gira a largo, che è meglio. Fai a culo. Il gelato? Sì, perché? Hai detto il gelato. Uno comincia col gelato. Andiamo, dai, guarda che non attacca. Non è questo il sistema, dai retta. E lo sai come si rimorchia in questo paese? Perché fai le boccacce? È così che si rimorchia? Esatto, è così che si fa più. Ma è una schifezza. Guarda, è? Ma dai, fai schifo. Sembra la coda di una lucertola. Sembra che hai una lucertola in bocca. Vedrai che poi te ne renderai conto. E chi le donne in questo paese, quando gli fai così, capiscono? Capiscono cosa? Capiscono, diventano pazzi. Devi fare molto esercizio. Bisogna che impari perché alle donne gli piace quando tu le lecchi bene. E guardala. Attento, eh. Accidenti, questa è la proprio tazza. Guarda come si tocca. Allora? Hai forza? Dici che ce la fai con quella? Io dico che ce la faccio. E allora perché non ci provi? Perché no? Tu vieni a vedere? Ti vengo a vedere. Coraggio. Non lo vuoi più fare? Sto a guardare. Vieni. Ok. Voglio proprio vedere, eh. Questa me la faccio. Vieni. Guarda. Vai, vai, Chico. Facci vedere, eh. Sta zitto. Tu guarda e basta. Ok, vai. Lei è molto carina, lo sa? La stavo guardando quando tu hai passato laggiù. Volete vedere una cosa buffa? Ehi, guardate un po' laggiù. Lo vedete quel tizio? Lai in fondo. A te, piemi, siano qui. Devo guardare quel mio amico. Vuole fare le boccacce a quella ragazza. Ma che porco. Visto che gli è successo? Ehi. Io perché sono troppo educato sono titolo. Dai, dai, vieni. Quello non è per te. Su, pie. Andiamolo a fare così, dai. Struzza. Che ti avevo detto io? Lesbica. Che ti avevo detto? In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. E' per questo che bisogna muoversi.